La DIA ha sequestrato beni per un milione di euro ad un imprenditore di Catanzaro, Luciano Babbino, ritenuto, riferiscono gli investigatori in una nota stampa, il vertice di un'associazione di stampo mafioso di tipo andranghettistico, operante nei settori della Valle Fiorita, Amaroni e Squillace, attivo sotto l'influenza delle cosche di Cutro e di Isola Caporizzuto. La confisca è stata fatta in esecuzione di un decreto emesso, su richiesta della DDA di Catanzaro, dalla sezione Misure di Prevenzione del Tribunale, che è anche disposto, sempre su proposta della DIA e richiesta dalla Procura Antimafia, la sottoposizione per tre anni di Babbino alle misure della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. L'attività di polizia giudiziaria, che ha portato alla confisca, rappresenta la prosecuzione di quella sfociata nel sequestro dei beni di Babbino, già eseguito nel gennaio del 2021, sulla base delle indagini condotte dalla sezione operativa di Catanzaro della DIA, attività dalla quale è emersa la particolare gravità e solidità degli elementi emersi dagli atti da cui si evince l'elevato spessore criminale di Babbino, tanto da giustificare l'applicazione a suo carico della misura della sorveglianza speciale. Grazie alla puntuale ricostruzione contabile effettuata dagli investigatori, è detto ancora nella nota stampa, è emersa una rilevante sproporzione tra i beni dimituati e redditi dichiarati da Babbino. I beni confiscati consistono nell'intero compendio aziendale riconducibile all'imprenditore, composto da due società attive nei settori della ristorazione e della tinteggiatura, e pose in opera di vetri, 10 immobili, un motociclo ed un'automobile, oltre ad una serie di rapporti bancari e disponibilità finanziarie.